Torna allo spazio Data News dedicato a tutto lo sport del weekend. È il Milan unico a tenere il passo del Napoli e Rosso Neri nella tana di un ritrovato Torino. Una Roma ferita dalla sconfitta col Napoli e di scena a Verona per ricominciare a puntare le zone alte. Il Bologna è tornato a vincere, il Monza perdere in Brianza e in paio punti pesanti. Quando si gioca a Torino, quella tra Rosso Neri e Granata è una gara equilibrata, con 7 pareggi nelle ultime 15 gare. L'approfondimento di Olivet TV propone il segno X al 30% e la vittoria del Milan al 45%. 31 precedenti al Bentegoti tra Verona e Roma. In 16 circostanze entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol. Su Olivet TV tutte e due le formazioni in gol sono previste con una probabilità parla del 55%. È la prima volta che Monza e Bologna si incontrano in Serie A. Il bilancio nei 13 precedenti in altre categorie è a favore dei Felsinei. La vittoria dei Brianzoli è al 43%, quella degli Emiliani è al 30%. E su Olivet TV trovate tutti gli approfondimenti statistici sugli eventi sportivi del weekend. E noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con Data News.